Buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino che come sempre va in onda in diretta alle 7.30, poi in replica fino alle 8.30 del mattino on demand sul sito internet alle 13.30 di nuovo sul canale 17 di FanoTV alle 9.10, insomma c'è modo per dare un'occhiata ai giornali così come faremo tra poco con il nostro touchscreen vediamo prima il santo del giorno, lo facciamo subito, oggi è Santa Giulia Biliarte stiamo parlando di una santa che è vissuta in Francia nel 1751, il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.44, vediamo il tempo, oggi avremo nuvole sparse e anche precipitazioni a prevalente carattere di rovescio al mattino, soprattutto nelle zone interne, poi dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a divenire diffusi anche a carattere di rovescio ancora più abbondanti nei settori interni, le nevicate sulle cime appenniniche invece più elevate, le temperature sono senza variazione di rilievo, andiamo a vedere le previsioni invece per domani, sabato 9 aprile, ancora cielo irregolarmente nuvoloso soprattutto nella parte centro-meridionale della regione e domenica invece il tempo che migliora anche se non si escludono residui fenomeni nottetempo sul settore ancora meridionale, tempo stabile sulle marche anche inizio settimana con temperature in graduale aumento. La pagina di Fano del resto del Carlino, eccola qua, Salvini contestazione già iniziata, il Grizzly manifesta a pochi metri, il primo al Politeama e i secondi in piazza Amiani. I ragazzi del centro sociale vogliamo dicono dire la nostra sull'immigrazione Luca Paolini invece se creano problemi al nostro leader chiederemo a Seri, il sindaco di Fano di revocare l'uso della sede, intanto sui social network sta girando questo banner, respingiamo Salvini, danno appuntamento poi domenica alle ore 10 all'angolo con il Sant'Arcangelo piazza Amiani, la nostra Europa non ha confini e sotto c'è la curiosità, Salvini divide padre e figlio, l'arrivo di Salvini porta con sé anche una curiosità, il caso vuole infatti che domenica alle 10 in piazza Amiani tra i ragazzi del Grizzly che protestano contro la politica razzista appunto della Lega ci sarà anche il figlio di quel Guido Casanova che è proprietario del Cinema Teatro Politeama dove appunto parlerà alle 11 il segretario nazionale leghista Matteo Salvini. Gli avvocati contro la fondazione Cassa di Risparmio di Fano c'è accaparramento della clientela, i legali contestano l'iniziativa lanciata da Tombari con lo studio Pozzi, lo dice Giovanni Orciani che si dice allibito, Orciani è avvocato del Foro di Pesaro sulla possibilità di estendere l'assistenza legale gratuita anche ai piccoli risparmiatori dei 14 comuni di competenza della fondazione che altrimenti per l'eseguità del loro investimento non avrebbero comunque convenienza ad intraprendere una quota, un'azione legale. Mentre il patto di quota light, la percentuale sulla vittoria ma è vietato professionalmente. La pagina di Fano del resto del Carlino sull'aeroporto, i 5 Stelle sono critici, ha pagato pantalone, regalo all'Enac con i soldi dei fanesi ma Santorelli smentisce dopo 20 anni e oltre 2 milioni di euro spesi dal comune nella costruzione delle infrastrutture e nella gestione dell'aeroporto di Fano i nostri esperti amministratori si sono accorti che tutto ciò che è stato realizzato con i soldi dei cittadini fanesi era di competenza dello Stato e non del Comune. A Fossombrone invece il caso di una donna colpita da aneurisma, un'ora per aspettare l'arrivo dell'ambulanza, ci sono meno mezzi a disposizione, sono tutti fuori, i soccorsi arrivano da Marotta, ora oggi invece viene inaugurato il nuovo ambulatorio dedicato all'endoscopia. La pagina invece di Pesaro è quella del Carlino che in evidenza con la fotonotizia mette il caro caffè suggerito dal 4 aprile l'aumento di 10 centesimi a Tazzina ma molti bar nicchiano e dicono non è il momento di aumentare nulla. Questura in via Zongo e niente mafia, il prefetto Luigi Pizzi, progetto avviato con il Demagno sulle infiltrazioni mafiose invece dicono, dice il prefetto, mancano i reati. Ricci a Pesaro, via l'ultimo semaforo in via Solferino, il sindaco annuncia la rotatoria provvisoria su via Giolitti che dice si farà a luglio. La pagina di Fano del Corriere Adriatico è sulla piscina Dini Salvalai che torna alla storica società fanese Fano Unfortune che ha vinto la gara d'appalto per la gestione dell'impianto. L'Unedi ci sarà la riapertura, almeno questa è l'intenzione di Pivaro che era sicura, noi daremo spazio sia alla preparazione agonistica che alle pratiche riabilitative. Quella di Pesaro invece del Corriere è sull'ospedale da 615 milioni, stesse specialità, ecco il progetto preliminare presentato, a tanto ammontano i canoni da pagare per 20 anni. Poi mostra la fotografia, il rendering con, vedete, cerchiate i cinque corpi fabbrica disegnati a forma di pettine che sono alti sotto i 20 metri, però dove là il piano paesistico ambientale regionale prevede una misura massima per gli edifici di 7 metri. Insomma il rendering che inserisce questo nuovo ospedale tra Pesaro e Fano a pochi metri dal mare nel paesaggio di Fosso Segliore rivela tutte le fragilità, scrive il Corriere, di questo progetto. e sulla pagina di Fano c'è anche spazio per la viabilità nuova che si sta studiando a bell'occhi una viabilità rivoluzionaria. L'assessore Fanese ha incontrato i residenti, infatti parla di una via principale del quartiere che diventerà a senso unico. Chiesti interventi per ulteriori parcheggi, il nuovo assetto viario sarà comunque testato in via sperimentale. Da Monbaroccio invece sull'accordo tra Ricci e Vichi una minestra riscaldata, dicono gli oppositori, che tornano alla carica. I 20 milioni di euro dicono sono una bufala. Sulla fusione dunque c'è ancora Maretta, Massimo Moratori che è contro questa fusione tra Pesaro e Monbaroccio. Il municipio dice Moratori sarà svuotato e chi avrà l'ultima parola sarà sempre il consiglio di Pesaro. Emanuele Petrucci sarebbe invece molto più produttivo lavorare sull'accorpamento dei servizi. Adesso andiamo sulla pagina di Fano del messaggero. Invece in apertura anche qui la Dini Salvalai che torna alla Fano Fortuna lunedì prossimo prevista la riapertura della piscina. L'assessore del Bianco ha detto più che l'aspetto economico i progetti fanno la differenza. Negli ultimi anni la conduzione dell'impianto era stata affidata al gruppo di Verona Sport Management. Mentre i maestri degli scacchi sono a Marina dei Cesari, centinaia di iscritti in tutta Italia. Sotto invece sul referendum la petizione pro Santa Croce verso il treguardo prefissato, 200 firme per il referendum. La pagina invece principale del messaggero, operazione semafori zero. Questa è la notizia, la scelta del sindaco Ricci. Via l'ultimo impianto sulla direttrice viaria Pesolo Urbino. Dopo le rotatorie di via Goito, d'estate i lavori all'incrocio tra i via Ponchielli e via Giolitti. Al bar il caffè si prende corretto, il caffè e la brioche aumentano del 10% al bar e nelle pasticcerie o almeno questa è l'indicazione. Poi si parla della notte brava degli studenti a Urbino che finisce però con sette denunce. Sono sette infatti gli universitari che sono finiti nei guai per un festino troppo turbolento. Questa era l'ultima notizia della rassegna stampa, grazie per averci seguito. Vi ricordo oggi gli appuntamenti qui sul canale 17 di Fano TV, appuntamenti con il Papa, Papa Francesco allora alle 11.30 in diretta dalla sala stampa della Santa Sede. Ci sarà la conferenza di presentazione dell'esertazione apostolica posto sonidale del Santo Padre Francesco Amoris Letizia sull'amore nella famiglia e poi alle 18, quindi il primo alle 11.30 e poi alle 18 in diretta dalla cappella Redemptoris Mater in Vaticano, Santa Messa per il Centro Aletti. Presiede il Santo Padre, appunto Papa Francesco. È tutto, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.